C'è voluto un pizzico di astuzia, ma alla fine il capitolo sul rendiconto di bilancio 2012 è stato archiviato senza troppi problemi. Il documento finanziario è passato con 17 voti favorevoli. In seconda convocazione è bastata la presenza di 16 consiglieri per rendere valida la seduta. Si sono presentati in aula alle 15.25. L'appello si è tenuto alle 15.30, mentre alle 15.40 il consuntivo era già approvato. I consiglieri di opposizione sono giunti solo quando i giochi erano già fatti. Votato secondo il regolamento, noi abbiamo il consiglio che va dalle 8.30 alle 13.30, dalle 15.30 alle 20. Le 15.30 vi erano i consigli di maggioranza in aula, io non ero neanche presente, quindi ho fatto l'appello, un numero valido, non c'erano interventi, abbiamo votato il bilancio consuntivo. Ma ora la maggioranza di centrodestra dovrà affrontare una sfida ancora più importante. Entro il 30 giugno infatti c'è da provare il bilancio di previsione 2013 del comune di Campobasso. Non sarà così facile superare l'ostacolo, sempre che la maggioranza del sindaco di Bartolomeo non confidi in una nuova distrazione del centro-sinistra. Il bilancio più importante, perché parlavamo con l'assessore Toma di portare il prima possibile in aula per investire sulla città. È importante senza essere troppo filosofo, anche perché è l'ultimo bilancio, perché l'anno 21 saremo tutti quanti impegnati in campagna elettorale, quindi se ci sono determinate risorse da poter investire in città è giusto che lo si fa. Penso che l'amministrazione comunale, giunta e sindaco in testa stanno lavorando per affrettare i tempi, per poter far sì che quel piano previsionale possa essere un piano pratico da poter subito investire sulla città di Campobasso.